Stefano Locatelli, sei un vicino di casa di Gimondi che ha vinto tre giri d'Italia, di Gotti che ne ha vinti due, di Savoldelli vincitore di due edizioni della Corsa Rosa e anche del leggendario Pesenti, primo il Giro d'Italia 1932. Quando vediamo nell'albodoro del Giro d'Italia il nome di Stefano Locatelli? Di sicuro non quest'anno, sarà difficile anche nei prossimi anni però ci si prova, quest'anno è il primo anno, un'esperienza che devo ringraziare la squadra perché mi ha dato questa possibilità, devi correre comunque un Giro d'Italia con i campioni e dare una mano alla squadra e se era possibile magari trarmi qualche spazio in qualche fuga ok, però più che altro sarà una grande esperienza. Ti senti all'esame di maturità? Beh, un Giro d'Italia comunque non ho mai fatto una corsa di tre settimane, massimo corso che ho fatto di dieci giorni, perciò già quella è un esame, in più con dei campioni e delle andature così elevate vedremo un po' come reagirà anche il mio fisico e spero di riuscire ad arrivare alla fine. In percentuale quanto è più faticoso il professionismo rispetto al ciclismo degli Under 23? Ma è tutta una cosa un po' diversa perché è più regolare la corsa diciamo, si va via mari forte tutto il giorno, la stessa media però si va all'inizio più regolare e poi la media viene aumentata negli ultimi chilometri dove si va davvero forte, ma nei dilettanti invece c'è sempre un party o party tour e si va a scatti tutto il giorno, non c'è mai un momento di riposo, qua si va regolari e sul finale però per essere davanti bisogna andare davvero forte. Si va forte e si vince la maglia bianca da leader della classifica, dei giovani magari? Beh, anche quello mi sa che bisogna aspettare ancora un po' perché è il primo giro di Italia, non so neanche come reagirò dopo una, due, tre settimane e speriamo di reagire bene. Il mio nome è Fulvio Acquati e io faccio gli attacchi e i manubri degli elementi. E tu chi sei? Stefano Locatelli, primo anno professionista e sto facendo una bella esperienza al giro d'Italia. Ma perché fai il corridore? Perché per ora è la cosa che mi viene meglio. E cos'altro hai provato a fare? Ho provato ad andare a scuola all'inizio e è meglio correre in bici. Poi ho dato una mano ai miei a fare il mercato e è meglio correre in bici, perciò corro in bici. Meglio correre in bici, però meglio anche imparare un po' di cose. Sai, noi pensiamo che il ciclismo sia uno sport di gambe ma anche di testa. Tu cosa pensi? Sì, tante volte dicono che dove non ci si arriva con la gambe ci si arriva con la testa, perciò sicuramente è un sport anche di testa. Le gambe le allenate tantissimo, avete tanti professionisti, il team manager, gli altri che vi seguono per allenare le gambe. Come si fa ad allenare la testa? Ma correndo, correndo, perché è in corso più che altro che alleni la testa. Quando sei a tutta, sei in fondo al gruppo, però sai che non puoi mollare e lì inizi a lavorare anche di testa, non devo mollare, non devo mollare. Perciò, oltre alle gambe, lavori anche di testa. Questa è una bella risposta, bravo. Allora, la testa ce l'hai già. E tra le gambe e la testa c'è di mezzo il cuore? Eh beh, sì, perché comunque anche quando c'è un percorso oppure una maglia o che è, anche per difendere ci metti di tutto, ci metti coraggio, cuore, tutto. Ma ridai anche di più di quello che potresti dare. Una cosa che dicevo io quando andavo in barca a vela è che la testa ti fa fare le cose che è possibile fare. Il cuore ti fa fare le cose che è impossibile fare. Nel ciclismo ci sono tante cose che sembrano impossibili, imprese strane, imprese disperate. E il pubblico spesso vuole proprio questo dai grandi corridori. Ascoltami, ti piacciono i manubri delle elementi? Sì, sì. Grazie della risposta, ok, va benissimo. Grazie a tutti. Grazie.